Il coordinamento Noab del Gas Abruzzo raccoglie la sfida lanciata dal governo che ha approvato in via definitiva il progetto della centrale SNAM di compressione di case pente a Sulmona e rilancia con una mobilitazione in programma sempre a Sulmona il prossimo 21 aprile. Questa mattina davanti la sede della prefettura di Pescara, scelta come luogo simbolo del governo sul territorio, il coordinamento che riunisce comitati, movimenti e cittadini ha ribadito il proprio no al gasdotto Sulmona Foligno, ma soprattutto al progetto complessivo di far diventare l'Abruzzo un distretto minerario. Noi invitiamo tutti a mobilitarsi non solo per la centrale Sulmona ma per quest'idea di trasformare l'Abruzzo in un distretto minerario, in un hub del gas a favore dei profitti delle aziende senza interessi per gli abruzzesi perché queste opere vengono fatte solo per esportare il gas in nord Europa e far fare profitto a queste aziende quindi a loro i profitti hanno i rischi. Il decreto era un provvedimento atteso contro il quale la regione Abruzzo ha già detto di voler fare opposizione presso il Tar del Lazio, ricorso che segue quello avverso la delibera del 22 dicembre scorso della presidenza del Consiglio dei Ministri. I comitati civici sottolineano come non ci possa essere alcuna ragione di Stato che soverchi la sicurezza delle popolazioni che poi dovranno fare i conti con l'opera. Gasdotto dicono che attraversa l'Appennino uno dei territori con la più alta attività sismica d'Italia. Questo è anche diciamo un'ulteriore dimostrazione della volontà di rimanere in un tracciato, in un percorso nonostante le criticità che è presente, nonostante tutto quello che è accaduto sia nel 2009 ma nel 2016 nella zona dell'Umbria e delle persone che sono comunque interessate da questo percorso e quindi di voler continuare in questo progetto infischiandosene di tutto, anche di questi elevatissimi rischi sia di carattere sismico sia di carattere sanitario che di carattere ambientale.